Ma quindi i Little Nightmares sono delle storie completamente separate e non c'errà niente l'un con l'altra Non mi piacciono quando le cose sono così, devono concentrare almeno un minimo Cioè per esempio Giorgio no? Ci sono rimasto di merda quando la storia del secondo non continua la quale del primo Cioè nel senso, era diversa da quale del primo Poi però E quando dicono che è il level del coso, vabbè hai capito Quando c'è quell'elemento di continuità con il primo, già mi è piaciuto di più Mentre qua se non c'è nessun elemento con il primo Eh insomma volevo vedere se c'è qualcosa Mentre, capito Non c'è nessun elemento, non mi piace Non si può aprire, ok Questa, qua ci sono chili di cocaina Chili di cocaina Ah, devo farmi tirare dal mio Hai detto che è una finestra aperta Sì, ma sei tu che non sei riuscito a grappare Ah, chili di cocaina Sì, ma sei tu che non sei riuscito a grappare